Io sono quello che, se dovessi adoperare un termine per definire il proprio lavoro. Prenderebbe in prestito la definizione che, Gianni Toti. Conio per se stesso. Poetronico. Pare che io sia quello che ha. Mater materia. Il lavoro diventa opera solo quando la poetica trova la chiave per decodificarlo. Per denominarlo. Nello stesso modo in cui. Io sono. E se l'opera ha avuto il suo giusto nome, solo la poesia può farmi dire. Io. Sono. Quello. Punto.